Buongiorno ragazzi, quest'oggi volevo farvi vedere un piccolo tutorial su come creare una foto in HDR come questa. Questa è una foto in HDR, praticamente sono tante foto con esposizioni diverse in formato RAW che con un apposito programma si sovrappongono, ci si smanetta un pochino con le impostazioni, in poco tempo si ha un risultato simile. Ora vi farò vedere più o meno una cosa di questo genere, come ho creato io la foto che vi ho fatto vedere. Allora intanto le foto devono essere in RAW, è un formato che potete selezionarlo dalla vostra macchina fotografica e vi servirà questo programmino Photomatix Pro e lo trovate tranquillamente su internet. Lo scaricate e una volta scaricato vi uscirà questa sorta di impostazione. Clicchiamo su load bracket photos, il mio inglese è eccellente. E selezioniamo allora questa che era in HDR, è in RAW, scusate, questa, questa, fino alla, fino a che numero? Alla 200, ops, 209 mi sembra, sì. Ok, qua ci farà vedere le foto che abbiamo aperto. Perché vi dico di usare foto in RAW perché hanno delle informazioni grazie alle quali si riescono a lavorare con le foto appunto. perché altrimenti non si riuscirebbe a ricavare alcune impostazioni, per esempio una foto in JPEG non potrà mai essere passata in HDR oppure si può essere passata però con risultati molto scadenti. appunto perché non hanno certe informazioni che le foto in RAW ce l'hanno al loro interno. Io credo che in tutte le macchine fotografiche ci sia questa impostazione che si può cambiare da JPEG a RAW o non so, altre. Dopo vent'anni ci ha aperto sto schifo di foto. Naturalmente questo non è il nostro risultato, faremo il suo OK e lui farà l'HDR. Formerà l'HDR, mettiamola così. Se ce la fa. Entro domani. Sì, è una procedura ragazzi un pochino lenta. Non so se è colpa del mio computer oppure credo che sia lenta a tutti perché deve analizzare infatti le informazioni. Un'altra cosa, un altro trucco che vi consiglio è di fare più foto possibili in RAW, di avere logicamente un treppiede, altrimenti la foto verrà mossa. Eccola qua. Questo diciamo è il risultato che lo crea lui. Noi abbiamo in parte qua tante impostazioni, tanti stili differenti. Tutti sti qua. Bene, noi lasciamo sto qua e possiamo smanitare con questo. Magari. Questa è l'immagine bruttissima. Questa invece è più carina, più decente. Luminosità è al massimo. Sì. Qua possiamo cambiare. Le varie impostazioni. Questo qua è un po' troppo, mi so. Poi ho, qua cambiate voi al vostro gusto, al vostro piacimento. Io sto facendo un po' la caso giusto per farvi vedere un attimo come funziona il tutto. Ok. Più o meno così. O così. Ok. Così. Più o meno lasciamo così. Una volta finito, qua abbiamo l'istogramma sotto. Per chi non lo sapesse, si vada a vedere che cos'è un'istogramma. Clicchiamo su Process. Lui ci rivedrà un po' la foto e questo è il risultato. Una volta che siamo a posto, qua possiamo smanitare contrasto, colori. E una volta finito, andiamo su file e salva immagine. E lui ce l'ha salvata su la cartella HDR. Ok. Che è? Questa? Ci credo sia questa. Il risultato non è eccellente. Infatti io... Oh, è questa. No, sto qua più scuro. Infatti io uso sempre Lightroom che è uno strumento molto facile, intuitivo e funziona molto bene. È un programma di fotoritocco. Eccolo qua. Si apre. E possiamo ritoccare la nostra immagine. Cambiare l'esposizione. Non so... Mettere filtri. Chi ne ha più ne metta. Io prima ho già un po' sistemato e più o meno la nostra foto verrà una cosa simile. Magari una cosa così, più o meno. Qua possiamo cambiare la chiarezza. Così è tanto surreale. È un pochino troppo. Così troppo o poco. Non via di mezzo, più o meno così. Qua possiamo cambiare sotto vividezza, saturazione, vabbè. Una volta che avete fatto il tutto, file, esporta, fate la sottocartella, mettete la sottocartella. Qua scegliete qualità formato e una volta fatto cliccate su esporta. e troverete la vostra immagine. Una cosa simile. Io vi ringrazio. Spero vi sia piaciuto almeno qualcosa di utile da fare. È anche una cosa simpatica. Se avete domande, fatele pure, commentate, mettete mi piace al video. Mi raccomando una cosa. Iscrivetevi al mio canale. Ciao, ciao.